Signori buongiorno, un saluto dall'Arco dove abbiamo una serie limitata dei libri con adesivi e penne in omaggio, vero Francis? Penne adesivo in omaggio, prezzo 14 euro, su Amazon, bravissimo! Oltre a questo mi avete mandato un sacco di messaggi sul viaggio, come potete immaginare io il viaggio l'ho registrato e lo sto mandando online un po' alla volta, ma in tanti mi avete scritto, ma raccontaci la storia dello stemma dei Colleoni, lo stemma del Colleoni è divertente perché già il nome un po' lo dice, no? Colleoni, coglioni, di fatto Colleoni significa coglioni, solo che una volta era simbolo di forza, simbolo di maschilità, essendo un condottiero di ventura, quando entrava in battaglia c'entrava al galoppo dicendo coglioni! Allora lo stemma rappresenta tre paia di testicoli e conoscevo una contessa Colleoni che essendo molto cattolica si imbarazzava di questa cosa, perché si diceva appunto che Colleoni fosse così vigoroso di averne tre paia. Io questa contessa Colleoni era talmente imbarazzata di questa storia, avere dei testicoli nello stemma di famiglia, c'era una che impilava le famiglie cristiane, che diceva, guarda Federico, che sono tre cuoricini al contrario, ma che carino è! Continuate a scrivermi sui video le cose che vi piacerebbe vedere nelle zone che passo vicino a voi, perché faccio un archivio e poi quando finirò questo viaggio ne organizzerò altri e chissà! Cin!